Ben ritrovati gentili telespettatori per questa nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In prima pagina un servizio che arriva da San Donato di Piave, parliamo ancora di politica, un consiglio comunale fantasma e la minoranza chiama in causa proprio la maggioranza, definendoli arroganti. Sentiamo. Come da copione, ieri è saltato il consiglio comunale sul tema della sicurezza. Il segretario generale Daniela Giacomini ha fatto due appelli alle 20 e alle 20 e 30, constatando che in entrambi mancava il numero regale. Il presidente Francesco Rizzanti ha quindi sciolto la seduta. L'assemblea era stata convocata da quasi tutta l'opposizione, con un'unica eccezione del consigliere Angelo Parrotta di 5 Stelle, pur presente per dovere istituzionale. A mandare all'aria la seduta è stata la maggioranza che l'aveva definita una costosa vetrina, 2.000 euro, per esibizionisti politici, preannunciando l'intenzione di disertare poiché gli stessi contenuti erano stati trattati nell'incontro con il prefetto Domenico Cuttaia del 29 novembre e del consiglio comunale del giorno successivo. Mentre la giunta Cereser lasciava l'aula, i capigruppo di opposizione, pur senza microfono, rilanciavano la sfida. Per Gian Silvio Contarin, di Forza Italia, si è trattato di una mancanza di rispetto istituzionale. Una partita che non si chiude qui perché il tema sarà messo tra i punti del prossimo consiglio comunale, ribadisce. Giuliano Fogliani, della Lega, ha sottolineato come fosse la prima volta che saltava un consiglio in questo modo a San Donà. La convocazione del prefetto è stata strategica, ha rincarato Anna Maria Babbo di Scegli Civica, perché successiva alla richiesta del consiglio da parte nostra. Per Enrico Fingolo, di noi per San Donà, difficile un confronto con chi dimostra arroganza. Solidarietà all'opposizione è stata manifestata dal vicepresidente regionale Gianluca Forcolin, della Lega. Capisco che si tratta di una giornata di lutto per la maggioranza, ma disattendere un regolamento è irresponsabile, ha ribadito. La minoranza vuole insegnare alla maggioranza come amministrare il commento del sindaco Andrea Cereser. Per questo ha bisogno di Forcolina che non si vede mai in consiglio a San Donà e appare solo quando la discussione strumentale ha poi concluso. E adesso andiamo ad Oderso. Vestiti usati, dati ai migranti. È polemica da parte degli attivisti dell'associazione Cantiere Misto, i quali si interrogano sul perché la Caritas chieda un'offerta ai migranti ospitati alla Caserma Zanusso quando questi si recano al centro di smistamento a domandare un indumento usato. È noto, dice Marcia Val, ideatrice tra l'altro dell'evento Piazza del Baratto, che questi giovani non hanno soldi, non hanno reddito. Nonostante questo, quando vanno al centro di distribuzione del vestiario usato, gestito dalla Caritas, situato in fondo a Piazzale Turroni, gli addetti chiedono un contributo. Mi pare che si aggiri sui due euro. Non mi sembra una cosa giusta. Sarebbe meglio, prosegue, chiedere a questi ragazzi di svolgere in cambio dei lavori socialmente utili. Su quest'ultimo punto da tempo sta insistendo anche la Prefettura, senza però avere riscontro a chiunque venga a chiedere del vestiario usato al nostro servizio, viene richiesta un'offerta, precisa così, e quindi risponde Don Roberto Camillotti, responsabile della Caritas Diocesana di Vittorio Veneto. Lo si fa con tutti indistintamente, si tratti di italiani, di migranti alloggiati alla Caserma Zanusso o di altri extracomunitari che vivono sul territorio. La nostra associazione si comporta con tutti allo stesso modo. Il contributo viene richiesto sin da quando è stato allestito il servizio di distribuzione. Prima di tutto per responsabilizzare chi viene a chiedere, in modo che venga dato valore al dono che egli riceve. In secondo luogo per evitare abusi. Adesso andiamo con il prossimo servizio a Portogroaro. Abbiamo intervistato in occasione di un importante evento organizzato da ASVO, la COP che sposa l'iniziativa di ASVO di Ecopunti. Sentiamo. Nell'intervista al Presidente Luca Michelutto abbiamo accennato quindi a 80 fra attività per il momento nel territorio, ma l'iniziativa ASVO si premia anche con un partner importante, la COP Allianz 3.0, con una raccolta punti un po' particolare per i propri associati. Di cosa si tratta? Ma noi abbiamo approfittato di questa importante iniziativa che è volta a un miglioramento del bilancio ambientale e in coerenza con i nostri principi della cooperativa, che sono quelli di avere un bilancio di sostenibilità sempre più alto, abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa. Da noi i punti si possono convertire in punti del catalogo fedeltà. Quindi attraverso il conferimento dei rifiuti in maniera corretta, quindi facendo un'educazione ambientale corretta, si può arrivare poi a punto vendita e attraverso la trasformazione dei punti avere degli sconti sulla spesa piuttosto, e questo è anche l'auspicio, di donare questi punti in solidarietà nazionale e internazionale perché all'interno del bilancio sociale e cooperativa c'è anche il fatto che noi aiutiamo le organizzazioni di solidarietà nazionale e internazionale a svolgere il loro lavoro. E i nostri soci i punti possono donarli sia per queste cose, sia per avere sconti sulla spesa o per avere premi fisici come in tutti gli altri cataloghi. Quindi insomma un importante impegno anche per questa cooperativa che tra l'altro è presente nel territorio in maniera abbastanza vasta. Sì, Coppa Alleanza 3.0 è la più grande cooperativa italiana, ma essendo la più grande cooperativa italiana radici molto profonde in tutti i territori. E quindi in questo territorio la cooperativa è nata e poi attraverso aggregazioni successive è arrivata questa grande cooperativa nazionale, ma noi qua abbiamo tanti negozi, fra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto abbiamo più di 150 negozi, quindi è chiaro che le nostre radici sono profonde qua e nell'interesse che abbiamo verso il territorio questa iniziativa si sposa perfettamente con la filosofia nostra di radicamento territoriale e di attenzione verso le comunità. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 10 ha scelto Sanstino di Livenza dove nel 2015 fu registrato il primo caso della provincia di contagio di Zika virus per programmare la nuova lotta ai vettori di tali malattie. Al Teatro Pascutto si sono riuniti tecnici dell'ASL, operatori dei comuni del Veneto orientale, ma anche amministratori condominali ed operatori turistici. Questa iniziativa è volta a fare il punto della situazione su quanto è stato fatto per la lotta ai vettori delle malattie infettive come le zanzare e per programmare le nostre prossime azioni, ha esordito così il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Luigi Nicolardi. È un tema estremamente attuale da non sottovalutare in quanto ricordo che i virus trasmessi dalle zanzare, come il noto Zika, sono presenti in questa parte del Veneto e per questi motivi la lotta al proliferare delle zanzare va combattuta a tutto campo, coinvolgendo necessariamente il privato oltre che il pubblico. Le novità alla lotta contro le zanzare per il 2017 inizia proprio da qui. Con l'incontro di infoformazione odierno, il Dipartimento di Prevenzione ha avviato il coinvolgimento in modo attivo dei privati che sul territorio detengono la maggioranza delle aree in cui proliferano gli insetti. È sotto gli occhi di tutti che il proliferare di virus noti come il West Nile e Zika sono stati presenti anche nel nostro territorio ed è provato che sono stati trasmessi attraverso punture di zanzare, ha osservato il direttore generale dell'ASL Carlo Bramezza per monitorare la diffusione di questi agenti infettivi. La Regione Veneto ha quindi istituito la sorveglianza attiva dei casi umani e animali di malattia integrandola con la sorveglianza di comuni e ASL. Oggi ampliamo questo orizzonte e coinvolgiamo anche il privato perché solo facendo sinergia possiamo intraprendere una lotta ai vettori davvero efficace. E torniamo adesso a Oderso perché in questa città è stato dato il via al Natale o Pitergino. Vediamo. Ci troviamo qui in Piazza Grande ad Oderso con noi Cessari Michele, vicesindaco. Allora, oggi la marcia di Babbi Natale ma Oderso ha un utrito, diciamo, programma per Natale. Certo, oggi è importantissima la prima marcia di Babbi Natale dedicata con un raccolta fondi per le mamme sole con figli. Comunque un Natale ben nutrito con molti eventi che tra l'altro li trovate con una scaletta ben definita nel sito del comune di Oderso. Dopo questa bellissima marcia, il prossimo proprio l'Eminente? Beh, ci saranno dei cori sparsi per tutto il territorio Pitergino, ci sarà un incontro al Cristallo, una lunga lista di incontri per tutto il periodo natalizio. Naturalmente Oderso non è solo Natale ma è anche cultura e storia perché è una città archeologica. Certo, beh, in questi giorni si è aperta la mostra Palazzo Foscolo, si è aperta una mostra alla Sala del Campiello. Diciamo che fortunatamente ci sono molti eventi che si accavallano ma questo ben venga perché questo vuol dire che la nuova amministrazione si sta adoperando per ridare vita e movimento anche turistico al territorio Pitergino. Insomma Oderso per tutti i gusti. Esatto, Oderso per tutti i gusti. E speriamo che comunque riuscire a mettere in piedi anche un evento per Capodanno. Sono albergatrici ed esercenti, lavorano nella nautica o nel centro benessere, hanno una pasticceria o sono impegnate nel sociale. Sono le imprenditrici di Jesolo che al Palarex si sono raccontate a Naturalmente Donna, una serata dedicata a tutte le donne che hanno fatto crescere con il loro lavoro un territorio e la sua cultura dell'ospitalità. A organizzare l'appuntamento è stato il gruppo terziario Donna Conf Commercio della provincia di Venezia e la Conf Commercio di San Donà e Jesolo in collaborazione con l'assessorato alle pari opportunità del Comune. Parafrasando un noto adagio si potrebbe dire che dietro a una grande località, commentato Angelo Falloppa, presidente di Conf Commercio, c'è sempre una grande donna. Ed è il caso di Jesolo dove le imprenditrici rappresentano una spinta spesso determinante per questo comparto. Ed è in questo contesto che ho ritenuto giusto dedicare la serata a Maria Mariuccia Passaggio Rivella, deceduta di recente. Grande imprenditrice, è stata la prima donna ad essere eletta nel Consiglio dell'Associazione Jesolana Albergadori. E adesso andiamo a Concordia Sagittaria, ai nostri microfoni, il parrogo Don Livio che ci parla di Monsignor Pellarin definendolo come un uomo che si faceva amare. Sentiamo. Siamo nella chiesa del Teson e siamo insieme a Don Livio Corazza, Monsignore di Parrogo di Concordia. E vogliamo ricordare Don Giuseppe Pellarin, il quale ci ha lasciato, però le sue opere rimangono, ma anche il suo vivo ricordo, nei nostri cuori, perché gli volevamo tutti tanto bene, perché lui ci ha voluto tanto bene. Monsignore, che ricordi, cosa ci dice di questo Santo Sacerdote? Beh, la personalità poliedrica di Monsignor Giuseppe Pellarin possiamo distinguerla, oltre che anche vederla nella sua unità, cioè come uomo, come sacerdote e come artista. Beh, innanzitutto direi come uomo, quello che mi colpisce, e mi colpisce anche indirettamente, è stato il suo sorriso, la sua amabilità. Sentendo i parrocchiani, delle parrocchie di San Pio X, nessuno ricorda che ci sia stato un momento in cui lui ha perso la pazienza, eccetera, e ce ne sarebbe bisogno qualche volta anche di perdere, almeno a me succede, insomma, qualche volta di perdere anche la pazienza. Invece lui ce l'aveva la pazienza. Poi mi ricorda come anche, siccome io l'ho conosciuto evidentemente soltanto bene negli ultimi anni, anzi direi proprio negli ultimi momenti, quando l'ho salutato a nome di tutta la comunità sul letto di morte, e mi ha ricambiato con un sorriso anche in quel caso, e gli ho chiesto, ho detto, Don Giuseppe, benedici la tua comunità di tesò, che tanto ti ama e ti vuole bene, e lui aveva appena compiuto i 95 anni, ha dato la benedizione, ecco, che conservo come un dei ricordi più belli come uomo e vedete anche come sacerdote. Poi come parroco, certamente, è una grossa eredità, perché tante volte mi chiedo io se realizzo, porto avanti un po' di quelli che erano i suoi sogni, i suoi progetti, e anche alla comunità lo ricordo, no? Ecco, il tanto impegno, il lavoro, una vita dedicata per la comunità, noi ne siamo degni. Ecco, certamente si concentra in questa Chiesa tutto il suo stile, tutta la sua fede. Ricordo sempre ai parrocchiani che vengono a messa la domenica che sono fortunati, perché alle mie spalle io non posso vedere, vedo certamente anch'io qualcosa, un quadro davanti, dove c'è Gesù crocifisso, la Trinità, dove c'è Papa Giovanni Paolo II in fondo sulla barca, ma dietro vedono, mentre si parla, mentre si celebra l'Eucaristia, si vede appunto degli freschi straordinari. Ecco, quindi l'altro aspetto di Monsignor Giuseppe come parroco, che entrava discretamente in tutte le case, in tutte le famiglie, anche in situazioni difficili, dati i tempi, le situazioni che si possono creare e trovare in una comunità. E poi concludo, ma su questo naturalmente io sono meno esperto, come artista, no? In tantissime case che ho visitato per la benzione delle famiglie ci sono dei quadri, o più di uno, anche o regalati, o commissionati dalle famiglie. E quindi entrava, insomma, nelle case anche attraverso la sua arte. E parla ancora, ecco, parla ancora a noi, sempre con discrezione. Sta a noi, naturalmente, non semplicemente lodarlo, ma anche cercare di imitarlo, cercare anche di ascoltarlo, no? Perché qualche volta è facile lodare una persona che ci ha voluto bene, ma qualche volta dobbiamo anche ascoltare la sua lezione. Che cosa ci direbbe oggi Don Giuseppe in alcuni momenti delicati o importanti anche della comunità, anche nel nostro compito di trasmettere la fede, perché se non ha tutto lo sforzo che ha compiuto in questi anni, nei suoi anni di permanenza qui come parroco, se poi non diamo una continuità, non cerchiamo di trasmettere la fede anche alle nuove generazioni, evidentemente lui non sarebbe per niente contento, ecco, al di là di tutte le lodi che li possiamo fare. Andiamo adesso a Pramaggiore, Sala Congressi della Mostra Vini, gremita per la presentazione della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese ai clienti e soci dei sei sportelli della Banca del Veneziano, ricordiamo Caorle, Concordia Sagittaria, Araclea, Sandona di Piave, San Stino di Vivenza e Pramaggiore, che sono stati acquisiti di recente dall'Istituto Friulano. Oltre a capire cosa cambiava per i clienti, c'era da capire da parte dei soci che fine avrebbero fatto le quote possedute dalla Banca del Veneziano. La presentazione dell'Istituto di Credito è stata svolta in tutte le sfaccettature, dall'impostazione creditizia economica, che ricacca quelle della Banca del Veneziano, come Banca di Credito Cooperativo, basata su garanzia dei fondi nazionali, anche all'aspetto sociale, con gli sportelli dedicati alle associazioni collegate, vedi lo sportello di Sabili a cura dell'Associazione San Pietro Apostolo, insieme anche alle consulte dei soci e dei giovani, le tante azioni di sostegno al territorio. A questo proposito, il Presidente Walter Rolenzon ha ricordato due cifre, 711 e 563. 711 mila euro, ha detto Rolenzon, sono i fondi erogati nell'anno per sostenere 563 iniziative sociali proposte dal territorio. E questo dimostra, in modo significativo, il nostro radicamento. Adesso andiamo nel Veneto orientale, parliamo delle prologo veneziane, soprattutto che puntano a promuovere in maniera intensa, è sentita le produzioni locali, insieme ovviamente anche al territorio. Sentiamo. Siamo con il neoeletto Presidente del prologo provinciale della provincia di Venezia, una organizzazione molto importante perché oggi parliamo di associazionismo, ma parliamo anche in una visione diversa, l'associazionismo come pilastro della comunità. Bene Presidente, quali sono le novità anche per quanto riguarda la prologo? Le novità sono moltissime, le prologo stanno muovendosi, muovendosi al di là di quello che è la spicciola attività che ci sono nei vari comuni, le cose tradizionali, le feste, le manifestazioni che si possono fare durante l'anno, che riguardano naturalmente la realtà locale, ma ci stiamo organizzando dal punto di vista del prologo venete, veneziane in particolare, per cambiare marcia, soprattutto sul fatto di attingere i finanziamenti della comunità europea. Io come Presidente provinciale del prologo ho già firmato due candidature per accedere ai finanziamenti della comunità europea con l'Interreg Italo-Sloveni, e spero di avere la fortuna di avere premiata questa nostra volontà di muoverci in questo senso. Abbiamo due assi da un punto di vista progettuale, abbiamo instaurato dei rapporti anche con dei partner sloveni, ma anche italiani, perché così bisogna muoversi, e abbiamo due assi, una che riguarda esclusivamente l'aspetto culturale, quindi storico-culturale, e uno che riguarda le produzioni tipiche locali. Sono i nostri due punti di traino che devono sviluppare e muovere il nostro territorio. Non ci possiamo più fermare ai finanziamenti, piccoli finanziamenti, anche perché le amministrazioni locali non dispongono più di queste cifre, e dobbiamo muoverci ad alto livello. Cercheremo di fare questo naturalmente con le amministrazioni locali e i comuni, ma non solo queste. Bene, quindi Presidente, pensiamo a un nuovo fronte, un nuovo fronte che riguarda il cimentarsi con l'Europa, con le altre realtà, soprattutto quelle vicine, come dicevamo, la Slovenia, la Croazia. Quindi un nuovo fronte in cui la Prologo può essere determinante, importante, nella comunicazione verso la gente di quelle che sono il futuro, le nuove attività, le nuove innovazioni, ma anche quello che è il passato, come appunto ripercorrere le storie locali. Sì, noi, al di là di questi progetti particolarmente ambiziosi, ci stiamo muovendo con le scuole, con concorsi di ricerca con le scuole, ma non solo, anche un po' di formazione, cioè cerchiamo che i nostri volontari siano informati su quelle che sono le esigenze della contabilità, della gestione, della sicurezza, di tante altre cose. Stiamo concludendo in questi giorni un interessante Festival dei Misteri che sono i racconti delle storie leggendarie del nostro territorio, che si chiama Festival dei Misteri e che anche la nostra provincia ha aderito e partecipato in varie località, ma non solo queste, dobbiamo fare nei prossimi mesi ripartire con quello che è stato l'Expo, quindi le produzioni tipiche, ripresentare queste e non fermarci e le Proloco hanno questo, cioè hanno parecchi volontari, però hanno bisogno di strutture forti come quelle che sono le amministrazioni, mi ripeto, cioè noi finanziariamente non abbiamo della solidità, ecco che anche il credito, anche le banche, gli istituti di credito ci devono sostenere su questa cosa e noi cercheremo di mettere a frutto da un punto di vista strutturale, finanziario, ma anche operativo tutte quelle che sono le risorse sul territorio. E parliamo ancora di località turistiche, andiamo a Bibione perché ha presso il via la prima rassegna di arte del paesaggio lungo il litorale di Bibione. Da piazzale Zenit verso il Faro e poi risalendo il tagliamento si potrà ammirare e partecipare alla realizzazione di queste opere temporane. Ognuno potrà esprimere la propria vena artistica utilizzando unicamente materiali che il mare e la natura avrà rilasciato sulla sabbia e lungo gli argini. Questo mercoledì 7 con inizio alle 20.45 presso la sede Prologo Bibione al Terminal Autobus verrà spiegato pubblicamente il semplice regolamento e le modalità di partecipazione. Le opere dovranno essere quanto più possibile in armonia, relazione con la natura e il paesaggio che le circonda. Le foglie, il legno, le pietre, la sabbia, i solchi, le alghe, le conchiglie diventeranno i materiali essenziali della propria espressività. Le creazioni saranno destinate a dissolversi nel tempo spazzate dal vento, dalla pioggia o dal mare, abbandonate alle condizioni atmosferiche o del paesaggio umano, ma prima saranno fissate per sempre da immagini fotografiche che poi saranno pubblicate in una raccolta dedicata. E adesso rimaniamo sempre in quest'ultima notizia per quanto riguarda l'aspetto fotografico vediamo un nuovo scatto dal territorio nella rassegna fotoreporter a cura di Vinicio Scortegagna. Bene gentili telespettatori termina qui l'informazione per quanto riguarda il Veneto orientale io vi ringrazio per l'attenzione non cambiate canale perché avremo tra poco i prossimi notiziari.